Ciao a tutti, sono Marco, personal trainer e wellness coach e titolare dello studio TT Cage di Milano. Oggi vorrei parlarvi della ricomposizione corporea, cos'è e come migliorarla. La ricomposizione corporea banalmente non è povere, possiamo definirla come la sostituzione del grasso con i muscoli, detta in maniera molto semplice e banale. Prima di vedere il video però vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Grazie. Nel nostro impegno costante per migliorare la vostra salute e benessere, oggi il con questo video ci concentreremo su un argomento fondamentale, la ricomposizione corporea. La ricomposizione corporea è un processo essenziale per raggiungere una condizione fisica ottimale e un corpo sano. In questo video condivideremo i nostri migliori consigli su come migliorare la vostra ricomposizione corporea, superando le sfide e ottenendo i risultati straordinari. Comprendere la ricomposizione corporea. La ricomposizione corporea è il processo di modifica della composizione del corpo, in cui si mira a ridurre la percentuale di grasso corporeo e aumentare la massa magra. Questo non riguarda solo l'aspetto fisico ma anche la salute generale. Ecco alcuni consigli su come affrontare questo processo in modo efficace. Alimentazione adeguata Una dieta equilibrata è il fondamento di qualsiasi programma di ricomposizione corporea. Assicuratevi di consumare una quantità sufficiente di proteine magre, carboidrati complessi e grassi e sani. Mantenete il vostro apporto calorico in un deficit moderato per perdere peso in modo sano. Esercizio fisico L'attività fisica svolge un ruolo cruciale nella ricomposizione corporea. Un programma di allenamento che comprende sia l'allenamento cardiovascolare che l'allenamento con i pesi è essenziale per raggiungere i tuoi obiettivi. L'allenamento con i pesi aiuta ad aumentare la massa muscolare magra, mentre l'attività cardiovascolare favorisce la perdita di grasso. Monitoraggio dei progressi E' importante tenere tracce dei grossi progressi durante il processo di ricomposizione corporea. Misurate regolarmente la vostra percentuale di grasso corporeo, il peso e le misure dei vari distretti muscolari. Questo vi aiuterà a fare aggiustamenti necessari al vostro piano, sia alimentare che di programmazione. Riposo adeguato Il sonno e il recupero sono spesso trascurati, ma cruciali per il successo nella ricomposizione corporea. Durante il sonno, infatti, il corpo ripara i tessuti muscolari e brucia le calorie in eccesso. Assicuratevi quindi di dormire almeno 7-8 ore per notte. Stress management Lo stress cronico può influire negativamente sulla ricomposizione corporea, aumentando i livelli di cortisolo. Trovate modi quindi per gestire lo stress come la meditazione, lo yoga, la lettura. Ridurre lo stress contribuirà ovviamente a migliorare i risultati. Conclusioni La ricomposizione corporea quindi richiede tempo, impegno e disciplina. Seguendo una dieta adeguata, un programma di esercizio fisico corretto, ma ritornando i vostri progressi e gestendo lo stress, potete ottenere risultati eccezionali. Non dimenticate mai che migliorare la ricomposizione corporea è un viaggio e non una destinazione. Continuate a perseguire i vostri obiettivi e vedrete che i risultati arriveranno. Grazie. 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 Grazie.